Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono latte intero, zucchero semolato, la scorza di un limone, il succo di limone, la farina di tipo 00 o l'amido di mais, le uova e la vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, le uova, il succo di limone, la vanillina e il latte. ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare completamente. Crema al limone, ideale come dolce al cucchiaio o per farcire dolci, torte o bignè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!